Oh raga, volete sapere come si fa a perdere 3 Skywars in team? Guardatevi sto cazzo di video! Benvenuti nel mio canale, io sono Lampa e oggi siamo di nuovo sulle Skywars, le guerre dei cieli. Da tanto tempo non le portavo sul canale, me ne ero un po' dimenticate a causa di Crash Royale e tutti gli altri giochi. Siamo qua su un nuovo server che ve lo lascio in descrizione, insieme a me c'è Ale the Best e siamo pronti ad andare a fare le Skywars di team. Quindi ci vediamo appena la prima battaglia, o meglio guerra dei cieli è incominciata, lasciate sempre un bel like. La partita sta per cominciare, 10 secondi circa e siamo pronti a spaccare i culi a tutti ragazzi. Insieme a me c'è Ale the Best, ok la partita è incominciata ragazzi, prima c'è St. Buona, lasciamo un po' di cubetti ad Ale, ok ci prendiamo l'ascia che è stra-up. Allora, vediamo qua direi, no di spaccare un po' di sti robi qua. Ok, Ale cosa facciamo? Ale cosa c'è? Ale cosa c'è nella cesta sotto? Ale vieni, si arrivo. Ok, tanta roba, Ale vieni su prima che ci attacchino. Eh, pensano che non ci siamo e dopo ce li ritroviamo. Ok. No, no, Ale, no. Mi ha fatto fuori, rega. No, rega, la prima battaglia con le Enderfell, non ci credo. Ci rivediamo nella seconda battaglia e la vinceremo. Ok, aspettiamo Ale the Best e intanto come vedete piove e ci rivediamo tra poco. Ok, buono. Vediamo prima chest. Così, così ragazzi. Deve andare molto meglio. Tu cosa hai beccato Ale? Vai sopra che ti ho lasciato le draghe se ti servono. Allora ragazzi, abbiamo trovato abbastanza roba se io che Ale. Direi che ci possiamo fare un ponte verso l'isoletta centrale. Che dici Ale? Ale coprimi le spalle, io vado. No, ci vuole. Ecco, Ale, ci siamo. Ale, ci siamo. Due blocchi. Sì, Ale, vieni. Basta seguire l'erba. Oh, Ale, attenti di là sulla nostra isola. Rega. Uno è caduto, Ale. Uno penso sia caduto. Ale, Ale, vieni su, rega. Gli abbiamo rotto il culo. Ale, vieni. Fra poco ci... No, ti hanno ucciso. Devo prendere, no. Ale, Ale, rimani come spettatore. Dimmi te. Sì. Sì. Allora, rega, rega, c'è un mio amico, cioè il mio compagno, che mi sta dicendo dove sono le persone. E intanto sto prendendo la roba. Io spero di trovare una spada in diamante o l'enderpe... Oh, spada in ferro. Tanta... Ok, ragazzi, mi sta dicendo... Eh, sto scappando. Sto scappando. No, 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 no. Eh, non ce l'ho fatta, rega. Non ce l'ho fatta. Niente. Allora, ragazzi, in sta partita eravamo anche arrivati in centro, che era tanta roba. Allora, ci andiamo a fare l'ultima partita come sempre. Stavolta la vinceremo con Fern e andiamo a farcela. Ragazzi, la partita è ricominciata. Siamo pronti a spaccare il culo. Quindi, andiamo. Con noi sempre Ali the best. Andiamo. Subito c'è... Sì, il centro è intorno a noi. Quindi, andiamo e via. Attento a non candere nel vuoto, Ale. Eh? Quanti fiori ci sono? Io, Fran. Oh, Ale, forse ne butto giù uno da cecchino. Da cecchino. No! Ha saltato. Mamma mia, le è passata... Le è passato l'uovo sotto. Vabbè, cosa facciamo? Dove andiamo, Ale? Eh, infatti, non so proprio dove andare. Oh, io non ho neanche tanti materiali, ti devo dire la verità. Quindi, non so. Eh, ascolta, Ale, fai un ponte da qualche parte, dove vuoi. Ale, fai un ponte velocemente. Ragazzi, siamo indecisi. Grande, Ale. Grande. Ale, coprimi le spalle e faccio un ponte. Sì, sono pronto, ragazzi. Sfida estrema. Siamo pronti. Sta mangiando. È pronto. È carico. Siamo carichi, però, più noi. Vieni. Vieni. Hai paura? Zio Kahn, non viene. Ale, ciao! Ciao! Ma, Ale, Ale, lo sai perché abbiamo perso? Perché c'è scritto Mappa Giappone in parte a destra. Hai capito? Noi siamo italiani, quindi... Ragazzi, per questo video può essere tutto. Io vi ringrazio per la visione. Vi ricordo di lasciare un bel like, commentate, iscrivetevi. Vi ricordo sempre di passare da Instant Gaming per giochi scontatissimi, sconti fino al 70%. E passare anche da Scaf Gaming per controlli personalizzati per tutte le piattaforme. Qui darà per tutto. People make me famous. Ciao! Grazie a tutti.